Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alcuni autori delle novità più interessanti nella narrativa italiana, quelle che stanno uscendo e continueranno a uscire nei prossimi mesi fino ad aprile-maggio. Sono anche contento di essere per la terza volta qui nella biblioteca Marconi a presentare questo progetto. Le biblioteche di Roma ci hanno seguito lungo tutti questi tre anni. Questa è una meravigliosa sede, molto accogliente, che mi sembra appunto ideale per avere incontri di questo genere. Oggi abbiamo con noi due autori, voi avete ricevuto nelle settimane passate i due romanzi. Gaia Reineri, autrice di Pulce non c'è, edito da Einaudi. E Marco Ventura, autore del romanzo Il bambino e i leopardi, pubblicato da Bonpiani. Ti correggono subito, non puoi sbagliare niente. Che ho detto? E i leopardi, quindi loro ho detto immediatamente. Il bambino e i leopardi. Guardate bene che stavo perfino leggendo il titolo, figuratevi un po'. Allora, cercheremo di capire attraverso le vostre domande e le loro risposte che cosa c'è in questi due romanzi, estremamente diversi fra di loro, ma che noi abbiamo pensato di mettere insieme in questo incontro di oggi per almeno un paio di temi molto forti che si rispecchiano in entrambi. Il primo è quello dell'incontro, dello scontro qualche volta, dei problemi di comunicazione che si hanno con qualcosa che è altro da noi, che può essere un'altra cultura, oppure può essere un altro modo, molto diverso dal nostro, di percepire il mondo. L'altro tema è quello della genitorialità e della cura. Non so se esiste una parola come figlietà, ma insomma è esattamente il corrispettivo della genitorialità. E questi sono due, chi ha letto il libro, magari ne avete letto uno soltanto dei due, voi sapete però che entrambe queste cose ci sono e sono molto forti. Cominciamo come sempre in ordine alfabetico, come si fa a scuola, e quindi dal libro di Gaia Reineri, Pulce non c'è. L'autrice è piuttosto giovane, poco meno di voi, e leggo nelle sue scarne note biografiche che è una cosa che mi interessa molto, cioè che vive tra Torino e Londra. Chissà che cosa farà tra queste due città. Presumo che non significhi che abiti in un punto della Francia che cade a metà fra i due estremi, o su un aereo, ma che è un po' sta a Torino e un po' sta anche a Londra. Sentiremo. Pulce non c'è, è un romanzo d'esordio, e Pulce, che non c'è più, è una bambina, il cui vero nome è Margherita, ed è una bambina particolare, affetta da, e cito, encefalopatia, epilettogena da sofferenza feto connatale, con ritardo mentale grave e disturbo pervasivo dello sviluppo che rientra nelle patologie dello spettro autistico. Fra parentesi, respiro. Quello che, questa fra parentesi, mi interessa a me, respiro. Perché è esattamente il segno che questa lunga frase, piena di paroloni difficili della medicina, non la stiamo leggendo su un trattato di medicina, ma la stiamo leggendo in un racconto, e c'è qualcuno che ce la sta raccontando, è la sorella di Pulce, Giovanna, e che la sta riferendo a sua madre. È sua madre che ogni volta si trova a dover definire a qualcuno la malattia di cui soffre la figlia, alla fine non può che trarre un respiro. Immaginiamo che ne tragga un respiro e poi forse anche, come dire, deglutisca, per metabolizzare di volta in volta a se stessa e al mondo quello che ha appena finito di dire, e cioè che sua figlia è affetta da un grave disturbo. Ora, tutto il romanzo è così. Viene raccontato attraverso la voce di Giovanna, che è una bambina poco più grande di Margherita, un adolescente, anzi, per meglio dire. ed il mondo di Giovanna è almeno tanto interessante quanto quello di Margherita e quanto quello dei genitori di Margherita. Naturalmente, in una famiglia in cui capita di avere una bambina affetta da questo tipo di malattie, la vita si riorganizza immediatamente per fare i conti con questo tipo di problema. Con tutti quei problemi, sentimenti di inadeguatezza che prendono qualunque tipo di genitore verso i propri figli, sarò in grado di educare qualcuno, ma che vengono decoplicati e anzi moltiplicati in modo esponenziale quando il figlio in questione ha un problema di questo genere. Naturalmente, la cosa ricade anche sulla bambina Giovanna, che è una bambina di un adolescente di una vitalità esorbitante, a sua volta intrisa di un mondo tutto suo, fatto di amici veri o immaginari, e di un modo di raccontare le cose semplicemente esilarante. Non aggiungerei altro per il momento, se non per dire che questa situazione, già piuttosto complicata in sé, come immaginate, viene ulteriormente complicata per gettare nel panico tutta la famiglia, quando a un certo punto, in un pomeriggio, Pulce non è a scuola dove dovrebbe essere, ma è stata portata per ordini di qualche entità superiore in una casa famiglia ed è stata così, bruscamente allontanata, senza dare spiegazioni, appunto da questo nucleo familiare. Non so se intanto Gaia vuole presentarsi prima di ascoltare le domande dei ragazzi e dire magari qualcosa altro sul suo libro.